guardate a totore lo squalo 2 eccolo qua totote amove cavalli roppland è il più forte così la pace da dormiti a bres guardate la distanza di totore che si avvicina la riva la distanza è notevole ci rimane 10 ma non vallote sta a posto ecco qua vai totote sto facendo primo piano vai totora a posto appos